Si chiama Rocca Aperta ed è il nuovo format pensato dal professor Massimo Puliani che a partire dal 5 dicembre animerà con numerosi eventi tra danza e arte e la Rocca Malatestiana. Come spiega il sottotitolo scelto per l'iniziativa, ovvero la cultura in partenariato, questa nuova formula ha messo insieme numerosi enti come il Comune di Fano, il Circolo Bianchini, l'Università dei Saperi e l'Università Libera Itinerante. Il programma che per tutto dicembre andrà ad arricchire la serie di eventi natalizi organizzati dall'amministrazione comunale e dalla Proloco Fanese si apre domenica 5 dicembre alle 17.30 con la compagna di danza Etro Collettivo che debutterà con sei proposte per il prossimo millennio spettacolo di danza ispirato a Italo Calvino e alle sue elezioni americane anticipato dalla performance di danza classica e moderna dal titolo Momenti di Vaganova Danza. La Rocca diventa il centro principale dell'inverno dopo la grande estate come se a un certo momento la Rocca potesse essere bivalente e anzi polivalente perché gli spazi si sono raddoppiati. E' infatti questo il senso della Rocca cioè dare spazio ai linguaggi contemporanei dove di sopra nel salone delle esposizioni ci saranno anche le mostre e sotto nelle cellette di nuovo riproporremo la grande mostra europea non più ferite con 11 artisti internazionali. Mentre ritornerà dal 18 proprio nata qui la mostra artisti per Dante con 65 pittori che faranno una mostra con fine benefico. Ma Rocca aperta è anche musica. Il 27 dicembre alle 21.15 la Rocca Malatestiana si animerà grazie ad Antonino nel concerto di Natale Christmas 21. Ad accompagnarlo saranno il maestro Davide Di Gregorio assieme a Giulio Farigliosi e Simone Oliva. Infine sabato 5 marzo 2022 nel giorno della nascita del grande poeta e regista si terrà il Pasolini Day. Tutte le informazioni sul programma completo, biglietti e prenotazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Fano Rocca Malatestiana. Ed è anche importante pensare che ci sarà un grande spazio per la musica perché qui c'è il Fab Lab che è una sorta di laboratorio ma al tempo stesso di sala prove dove appunto i giovani costruiscono delle performance musicali che si vedranno poi quest'estate all'aperto. Ed è proprio questo il bello della Rocca che riesce a coniugare la presenza di molte espressioni giovanili. Siamo un giorno prima del Super Green Pass rafforzato quindi il 5 potranno venire anche coloro che fanno solo il tampone.